Ieri, nella cappella del seminario arcivescovile di Sassari, Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo metropolita di Sassari e vescovo delegato della conferenza episcopale Sarda per le comunicazioni sociali, ha presieduto la celebrazione eucaristica del Tedeum, alla quale sono affluiti numerosi giornalisti e gli operatori del mondo dell'informazione e della comunicazione. Nella funzione si è sottolineato il messaggio di Sua Santità Papa Francesco su come sia necessario cogliere il senso d'insieme della comunicazione e stare attenti alle vie delle polarizzazioni culturali. E' quindi indispensabile, ha proseguito Sua Eccellenza Monsignor Saba, lavorare per uno sguardo d'insieme e non per le polarizzazioni culturali, seguendo l'esempio dei Remagi, modello di umiltà. Al termine della celebrazione, nei locali del seminario, ha fatto seguito lo scambio reciproco di auguri e qualche notizia sul nuovo portale internet della Curia.